La cosa della ginnastica che mi piace di più è la fatica. Questo sport è faticoso in base a quello che vuoi ottenere. Se hai un obiettivo da raggiungere, ad esempio io passo tutti i giorni in palestra, due ore e mezza o tre. Spesso a forza delle sconfitte uno pensa di non essere più in grado, è una continua lotta con se stessi. La ginnastica dà una formazione che nessun altro sport ti può dare, sia nella vita e anche a livello fisico. La ginnastica mi dà tutto, penso veramente che sia una fonte di vita per me.